Citroen Elettronica Auto, via Gaudio Magliori 15U, Cava dei Tirreni Prevenzione, promozione della salute e del benessere a Cava dei Tirreni presentato questa mattina a Palazzo di Città un progetto sperimentale in cui salute e famiglia rappresentano i due segmenti portanti di un calendario di iniziative dedicate alla prevenzione e distribuite su tutto il territorio cavese 5 incontri a partire dal 14 aprile fino al 13 maggio che coinvolgeranno associazioni, volontari, protezione civile e tutti coloro che ogni giorno operano il sociale un progetto voluto fortemente dal consigliere comunale Luca Narbone che ha trovato l'appoggio di tutta l'amministrazione Serballi e la collaborazione del terzo settore dell'Asle e delle associazioni che hanno sposato l'iniziativa è un progetto che nasce appunto con la sinergia di numerose associazioni di volontariato con privati, medici che hanno messo a disposizione la propria professionalità e i propri strumenti per creare qui a Cava dei Tirreni una vera e propria città della prevenzione abbiamo preferito suddividere il progetto in due macro aree l'aspetto sanitario e quello della famiglia da un punto di vista sanitario appunto verranno effettuate visite dall'otorino, al nutrizionista, all'oculista quindi abbastanza variegato da un punto di vista familiare cercheremo di marcare l'importanza della famiglia qui sul territorio non solo locale ma da un punto di vista appunto nazionale, di vita soprattutto cercando di dare una notevole importanza a quello che è il ponte di collegamento tra l'individuo in fasce fino a confluire nella società quindi un progetto a cui noi crediamo molto, abbiamo sempre dato importanza alla sanità e l'abbiamo fatto sin dall'inizio, un esempio che ahimè devo rimarcare è quello dell'ospedale di Cava dei Tirreni che era un ospedale destinato alla chiusura ma che l'amministrazione comunale insieme al governatore della regione Campania Vincenzo De Luca è riuscito a tenere in vita portandolo ad oltre 90 posti letto avremo circa 15 associazioni, avremo delle postazioni itineranti sul territorio comunale parliamo di 5 eventi in totale, 3 lungo le frazioni quindi Passiano, San Cesario, Castagneto e Sant'Anna per poi avere un evento finale a Piazza Duomo, Piazza Abbro lungo il corso di Cava dei Tirreni durante queste manifestazioni appunto verranno effettuati dei laboratori per mettere in risalto il valore della famiglia e poi delle visite mediche che saranno rese a titolo gratuito a disposizione di tutti i cittadini Il progetto Benessere, quindi salute soprattutto nel territorio di Cava dei Tirreni ma puntiamo poi eventualmente ad estenderlo ad altri partner che ne volessero beneficiare indica proprio l'interessamento da parte dell'amministrazione che ha dimostrato dal primo momento una elevata sensibilità nel tema del sociale di una propensione verso il bisogno di educare sin dai primi giorni di vita tutti coloro i quali di fatto vengono alla luce e quindi il progetto che è stato ideato dal consigliere Luca Narbone a cui va il mio personale ringraziamento e immediatamente condiviso dal sindaco ha avuto proprio ragione di essere e di avere tutta la sua esplosione nella pedagogia, nella educazione quindi a livello genitoriale affinché possano i genitori medesimi, possano educare i propri figli ad un corretto stile di vita è un grande passo soprattutto per la sfera che interessa a noi osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con disabilità è un'opportunità grande che ci viene data e ringrazio chi ha ideato, voluto e organizzato questa serie di incontri, di manifestazioni perché ci consente di portare nelle varie piazze, soprattutto delle frazioni ma anche del centro, quello che è il progetto del nostro osservatorio progetto di affiancamento delle persone con disabilità e soprattutto delle loro famiglie nella gestione delle malattie della disabilità che non sono più solo le malattie storiche, quelle prima della nascita, al momento della nascita e dopo la nascita ma con l'allungamento della vita media sono diventate malattie invalidanti che rendono la vita difficile da vivere e da gestire la possibilità che noi osservatorio coglieremo sarà quella di avvicinare nelle varie zone della città queste persone grazie a tutti